Programma cambiato in corso d'opera. Prosperi aveva preparato il lavoro considerando il recupero infrasettimanale con il Matese, poi il rinvio a mercoledì prossimo e dunque la nuova organizzazione. Dunque testa al Tolentino prossimo avversario degli Altomolisani. L'obiettivo? Continuare a stupire perché la salvezza è lì a due passi e una volta raggiunta si potrà pensare a qualcosa di più importante. La parola playoff resta tuttavia un tabù, nessuno vuole pronunciarla ma è chiaro che la posizione in classifica autorizza a sognare. Prosperi è pragmatico ed evita voli pindarici per lui. Conta solo la prossima partita, nel caso di specie quella con il Torentino avversario da prendere con le molle. Per questo schiererà la migliore formazione. Le scorie fisiche post recanati sono state smaltite. Il gruppo sta bene, gode di ottima salute e non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'allenatore pertanto avrà l'imbarazzo della scelta e nei prossimi allenamenti osserverà tutti con grande attenzione per scegliere i migliori.